Ciao amici di Italia Top Games, un video a sorpresa, a sorpresa, perché è arrivato a sorpresa un regalo che non ci aspettavamo. Eccolo qui, un contratto mirato a 5 stelle, grazie a Manuel, grazie a Furgoncino De Gelati, così si chiama l'utente di YouTube, non vi sto prendendo in giro, quindi grazie a tutti e due, che ci hanno segnalato questo, un contratto mirato a 5 stelle, che andiamo un attimo a vedere, manutenzione aggiuntiva, eccetera, eccetera, sto cercando di entrare per cercare di capire. Contratto mirato, scusa l'amministratore, non mi dà questioni su cos'è, sappiamo solo che oggi hanno segnalato che alcuni nomi non sono corretti, il framerate cala al Javis Stadium, se mettete notte, estate, quindi non lo mettete. Insomma, ci sono dei problemini, manderanno 10.000 GP in regalo, e proprio per questo hanno dato un contratto a 5 stelle in regalo per tutti coloro che creeranno un account entro l'8 settembre, quindi è una buona cosa, non sono buoni questi aspetti che non vanno particolarmente bene. Long loading times for some images, questo l'ho visto, le immagini che non si caricano, insomma c'è qualche piccolo problema, ma c'è anche un piccolo problema sulle condizioni dei giocatori, e quindi per questo ci hanno regalato questo contratto a 5 stelle che noi prendiamo volentieri. Andiamo poi a vedere un attimo qui se vale la pena utilizzarla adesso o meno, io non credo, perché i contratti a 5 stelle sono con i player transfers, che qui abbiamo visto esserci questi giocatori, ma Pogba me l'avete sconsigliato, gli altri, anche Decatlar come trequartista onestamente, o Modric e De Bruyne non penso proprio che andrebbero a giocare, gli altri pure, quasi onana, come portiere di riserva, ma penso ad altro, quindi non vado a prendere nessuno per il momento, anche perché per fortuna la scadenza dei miei contratti mirati, no, volevo andare a vedere, dove, vabbè, contratto mirato, no, niente, non mi ricordo dove si vede, forse qui, qui e poi, contratto mirato, eccoli qui, 25 ottobre, 26 ottobre, 1 novembre, me li tengo per il momento, però, però, ho fatto l'evento, se ancora qualcuno gli è sfuggito, tra gli eventi di MyClub, c'è questo qui, molto semplice, tra l'altro, ho fatto giocare all'intelligenza artificiale, l'Italian League, che ti regala un giro dei giocatori della settimana in evidenza, e, anche se, lo sapete, non l'ho girato, perché non c'erano giocatori che mi interessavano, particolarmente un giro gratis, lo faccio ovviamente con mucho gusto, allora, andiamo un po' a vedere chi mi piacerebbe pescare, vedi tutti, Holland come riserva, ma non fa, non è del mio tipo di gioco, Pedri potrebbe essere interessante, anche se non, anche lui, ho due med, un trequartista, Odegaard, magari Odegaard potrebbe essere interessante, Frimpon, Firmino, Furuashi, Dalò, Cozza, Rasmus e Paolo Vitor, e casomai li vendo, che vi devo dire, comunque, andiamo a girare, e vediamo chi mi esce, vediamo, English League, dai, che sarà, Holland, è Holland, uh, uh, è lui, eh sì, e vabbè, lo proveremo in qualche modo, lo proveremo, lo proveremo, 96, non è mica male, adesso andiamo a vedere quanto, quanto mi rende, avanti, non mi lamento, eh, però, ecco, andiamo un po' a vedere quanto rende in squadra, allora, facciamo, ecco, Holland, lo vado a mettere a posto di ebbè, 99, non è proprio malaccio, dai, diciamo che uno potrebbe anche fare, se magari le ha o non è in condizione, una roba del genere, che proprio male non è, però Holland è un giocatore che, finalizzazione, velocità, potenza di tiro, salto, insomma, mica, mica è male, l'accelerazione è un po' bassa, però la velocità pure è 90, frequenza piede debole, quasi mai, frequenza piede debole è alta, lo proveremo, dai, magari, in un World Wide Club Events, prima e poi dopo anche nel campionato, però, beh, ha per forza di cose, mi diventa lui il, la riserva, mi dispiace per Nunez, ma la differenza c'è. Ragazzi, io vi ringrazio per l'attenzione, ditemi se utilizzerete il contratto mirato con i giocatori che abbiamo visto adesso o se invece ve lo terrete da parte, come io farò, perché non ci sono né nei Players Week, né non li ho visti neppure, ma onestamente nella Liga BBVA non ho visto giocatori, non ce n'è neppure uno, e cinque stelle, quindi non lo so quanto possano essere utili, e anche in Giappone non mi pare ci siano giocatori a cinque stelle, no, per il momento mi tengo tutto. Va bene, comunque, un regalino di Konami gradito, un rapido video per ricordarvi di questa possibilità, io mi sono trovato anche Holland, e grazie, i soliti miei quattro grazie, se vi vorrete iscrivere al canale ancora non l'avete fatto, se volete abbonarvi al canale, se volete mandare un'offerta, o se volete fare i vostri acquisti su Amazon, passando per il link di affiliazione presente all'inizio della descrizione del video. Vi ringrazio tanto, ancora un ringraziamento a Furgoncino dei Gelati e a Manuel 84, al prossimo video. Ciao!